Big Rip, non ce l'avevo a tour l'altro che ho anche volevo portare Peccato Non mi ricordo il suo nome ragazzi Me lo dite, com'è che cacchio era il suo nome? Urca Urca, partiamo bene Però Devo testare sempre quanto danno fa 154.000 def Se la busta perché andiamo in 12 Proviamo, devo vedere quanto danno prende Ok Pensavo di più 12.000 Pensavo di più Fatemi rimettere su la sedia Pensavo di più chat Pensavo molto di più No, tanca Ok Ok Tanca Easy Cambiamo musica No, c'è la canzone Tanca Easy Ok Mi sa che qua possiamo trasformare Vegito Effettivamente Cioè Non ha preso niente Quanto prenderà 20.000 pugno Cazzamene Ah, Vegeta lì in mezzo può starci in realtà Not a big deal Proprio Lo tanca Anche se non ha la lida talmente tanto damage reduction Che lo tanca Quant'è? 17 Pre-special Non so la special Non so sinceramente la special Vorrei prendermene una in faccia Da capire esattamente quanto mi andrà a fare poi Solo per quello Vorrei capire esattamente Quanto è che poi mi arriva special? Solo per capire Wow L'additional Trovato Gocomuia Gelle dopo mille Quanto è? Non prende niente Farà un Massimo 200.000 Massimo 200.000 Credo Che Che stronzata Stronzata Veramente Sì è quello dell'universo dei cani Giustamente come i cani Deve implodere Giustamente Ripeto esattamente Mi voglio un attimo Spiegare Non i cani cani Per quelli ovviamente Sono Fantastici I cani dell'universo 11 Invece sono tre Tre schifosissimi cani Che odio tanto Ok Mi spiego meglio Bergamo Balsamo E l'altro Non mi ricordo neanche il nome Li odio tanto Sono Sono dei cani Hanno delle fattezze di cani Però fanno schifo Effettivamente Balsamo Balsamo Ma che cazzo ne so i nomi Lavanda Cioè lavanda Basilico Balsamo Bergamo Balsamo E shampoo Sì Giusto così i nomi Sono giusti i nomi Wow Non prende niente Ma dai Me l'ha cavolata Questo Me l'aspettavo Super mega difficile Oh mio dio Ragazzi Non vinceremo mai Ma che cazzo dico E' una trollata Di boss Vabbè Che buono Caolifla Non ci serve neanche in turno Non ci serve neanche in turno Caolifla Me l'ha son portata Super spaventato Oh mio dio E lo facciamo Cazzo Post special Mettiamo Vegeta A tancare Tanto li tanca Fino al settimo turno Lì tanca No E al settimo Ottavo Con le zan Non me lo ricordo Neanche più Super Begitto Ah no Dieci turni Era diventato Ok Beh Di certo Non rubiamo le orb Quello è poco Malsicuro Lui è vischio Ok Easy 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 peasy Sette mila Prende Cioè Può stare tranquillamente Bam Beccati questo Sei milioni In quel posticino Guardalo E ora I counter 56 da counter Wow 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 Eh se li critti Dai Dai Balsamo qua Amore Dai Su E se li critti Però grazie Ovviamente qua però Eh lo dico Dopo che ha finito In realtà Lo dico dopo che ha finito Ok Non l'ha fatta Avevo paura Della special Sinceramente La special Forse faceva male Special in primo posto Beh hanno damage reduction Non vedo perché Non sfruttare la damage reduction Con tutta la sincerità Non vedo perché non sfruttarla Anzi La dovrei sfruttare Basta Che cavolata di boss Mamma mia Peggio di virus Wow 120.000 Oh mio dio Aiuto Cazzo Ora muoio Ma balsamo negli occhi Non brucia Lo shampoo Negli occhi Che brucia Perché ci devo provare Con sale LR Ma andate a quel paese Qualcuno Sa Dove Dottor Gelo Perché Vorrei Leaurearmi In costruire Android Per bustare Quella category Easy Quando sei talmente Abituato alla special Su Vegito Che dimentichi Che l'STR Le mostra Quando si trasforma Giustissimo Vero Sono tanto Vero Vero Lascia perdere Sono fuso Eh vabbè Allora Cowlifla Sta lì prima No vabbè Sto turno fa schifo Però fargli tutti Quei danni in più Lo chiudo dopo Eh Conviene Tanto Vegito Ora si ritrasforma Quindi easy Conviene proprio Conviene Ragazzi Che devo dire Ho scelto di tankare Easy Sufienrami Sorry se ho letto male Grazie mille per il follow Ti ricorda Ganondorf Beh è un po' più paffuto Di Ganondorf Quello è poco ma sicuro Vai Cacatekoi Counter incoming Vediamo un po' Peccato per pugni Vediamo un pochino Primo Crettino Con it Con it Tech in team Enjoy Bella lì Eh tre barre di vita È andato ormai Easy peasy Trasformiamo di nuovo Vegito E facciamo tirare E facciamo tirare i counter Gimli del signore Degli anelli Nah Nah Penso ho trovato Tutti dal banner Demigatto Tranne Virus Vabbè non è che ti sei perso Molto Dai Su Non hai perso Niente di che Ok Vegito primo Vegito secondo Ci sono troppi Vegito Decidetevi Andiamo full special Per ucciderlo Siete pronti? È la sua morte Ragazzi Salutate Balsamo 20.000 Pre special Ok Ok Salutate Balsamo Salutate tutti Balsamo Ragazzi Balsamo è andato No Trono di spade No Non Non sono mai riuscito A seguirlo Guardato Le prime puntate Era talmente noioso Non l'ho più guardato Ciao Balsamo Wow Mi aspettavo di più da te Mi aspettavo molto di più da te Questo è È il Dio della distruzione Più facile del gioco Ragazzi Volevate battere Un dio della distruzione Eccolo qua Balsamo È il più facile Ragazzi Un colpo finale Anche da 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 Gohan STR E via Passa tutto Madonna che cagata Non abbiamo usato No item run Ho il titolo ragazzi Grazie mille Riccardo del super Ma ho il titolo No item run Contro il god God of destruction event Easy No item run Che boss emozionante Che boss emozionante Che boss emozionante